ciao siamo qua allo stand della corte per vedere l'ultima novità di questo grande marchio abbiamo una serie di chitarre elettriche grafiche sia anche in versione acustica è un design fatto a steven jansen grande grafico abbiamo la versione del modello kx5 sia in versione floyd rose sia in versione ponte fisso la stessa grafica la troviamo nella serie ndx acustica grande look e grande suonabilità grandi novità per la serie zinox che ora completamente rinnovata abbiamo un corpo più sottile è una linea più moderna e più aggressiva questo è il modello di punta la z custom in versione uno con pick up seymour d'anca nel ponte fisso o la versione 2 con pick up img sono tutte e due in mogano quindi un suono molto pieno grosso e aggressivo nuovi modelli di punta per la serie mr per la serie luce e per la serie earth abbiamo la mr 1200 fx con fondo e fasce in palissandra questo splendido top in abete birko con dei grandi intarsi a fiore su tutta la tastiera la l 1200 p che è una chitarra parlor quindi tradizionale sempre con fondo e fasce in palissandra e top in cedro mentre invece per la serie earth abbiamo sempre l'abete birko con questa tavola armonica spettacolare intarsi floreali e fondo e fasce in palissandra